La pelle di Arianna ha bisogno di essere idratata, quindi scelgo un fondotinta in crema. Cerco una tonalità che si avvicini il più possibile a quella del viso di Arianna. E con l'aiuto di una spugnetta in lattice lo stendo picchiettando. Questo fondotinta ha il vantaggio di avere una certa trasparenza, quindi non crea macchie indesiderate se noi lo stendiamo bene con questa spugnetta e ha un effetto molto naturale. Yeah, 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 ooh, ooh, oh yeah Yeah, 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 ooh, ooh, oh yeah